Buongiorno! Buongiorno ragazzi, che piacerebbe! Lo stacco di cosce! E non solo, anche... Mandornino! Chiappa si chiama, non gluteo... La chiappa di marmo di Carrara! Levigato! Come stai? Bene ragazzi! Avevo promesso, perché per favore è venuto a trovarci due settimane a fare, abbiamo detto per l'8 di marzo, ma non per fare la cosa che c'è il veloce che si spoglia, esattamente per quello! Ma a quanto pare qui chiedono che tu... Ma sei diventato più alto? No, e si è abbassato il microfono! Ti vedevo in difficoltà! Allora, è venuta fuori una roba stamattina che è un inspiegabile, incomprensibile anche per molti ascoltatori... È un fenomeno! Ma del resto, anche per noi, che è legata a questa ipotetica donna, oggetto di una poesia del nostro poeta, Maddalena! Io direi, se abbiamo tempo di riascoltare, così tiriamo dentro anche per Paolo e gli ascoltatori che da poco sono arrivati, sentiamo questa poesia toccante! Ah, tutto, integrale! Certo! Le cose le facciamo per bene o non le facciamo proprio? Dico bene Aldo? Benissimo! Grazie, tanto, sei molto gentile da parte tua! Allora, sentiamo, attenzione, atmosfera, la poesia dedicata alla donna! Cioè, fatemi capire, voi mettete il poeta di Putiniano, come lo chiamate voi, per farci apprezzare ancora di più regina quando canta! Sarà la storia, un'altra storia, un poeta e il poeta, prego poeta! E sarà donna! Il titolo sarà donna! Quante donne ho incosciato nel mio sentiero? L'unica che ho amato, adesso in cielo, sì, Maddalena, la donna per Antonomasia! Quante donne ho incontrato nel mio destino? L'unica che ho amato, Maddalena, mi ha messo al mondo, mi ha fatto bambino! Donna, la cosa più bella che Dio abbia creato! Donna, io di te sono innamorato! Donna, di te non amo solo il tuo essere, mamma anche, la tua donna! La donna! Magari, che cozzalone! No, no, no! Comunque è dedicato alla mamma che è morta! No, ognuno l'ha intendo, sempre lì pensi, guarda, ci arrivi prima o poi, eh! Cioè, ma come tutti! Lacciati dal corrigione! Ogni cosa pensa alla morte! Ma è una paese! No, è una poesia! È in cielo! E tu, è arrivata sta roba? No! Anche se si è vestito di nero! Per me, ragazzi, Maddalena è di New, povero gabbiano! Giusto! Vende il posto del povero gabbiano! Ma molti l'hanno associata! Maddalena! E allora, abbiamo detto, guarda che non è facile, Maddalena, perché c'è il Maddalena che colpisce, perché affonda sulla seconda vocale! E qua del sud! Tra l'altro, se ti trovi bene, magari un venerdì, facciamo festa, vieni a trovarci, stiamo qui, però devi fare, cioè dobbiamo dare un ruolo specifico, entra nella banda del procediamo, non facciamo confusione, la banda è una roba! Non posso suggerire all'ascoltatore, o canti, oppure fai, che ne so, il riassunto di qualcosa della settimana, cioè ci dobbiamo inventare! Oppure posso raccontare le poesie, tipo Maddalena? Maddalena? Ok! Quella può essere una cosa! Ok! Quella può essere... Adesso ci pensiamo! Ok, va bene! Un ruolo, perché non devi fare solo il bello, perché poi scrivono, mi dà fastidio questi messaggi, Pier, sei bellissimo! È vero! Ma ti dà fastidio per dire che c'è un giusto? Ma ci siamo io e Preda, che voglio dire, al nostro mondo esprimiamo, che ne so, una, no? Ma se vogliamo di navetti a fabbocco? Natura morta! Ma vogliamo parlare dei glutei di Proce? Eh, vabbè, 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 ormai che sono monumenti! Ma quanta bellezza c'è in questa televisione, stavolta in questa radio, eh? Tra Pretelli, Preda, le ragazze, c'è poi ci sono diverse espressioni di bellezza, Ad esempio, Marcello, l'espressione della bellezza dei Narcos, eh? No! Non mi ha detto poco, eh? Ci arrepiamo tutto chi lo conosce! Abbiamo l'intellettuale, il ragazzo giovane, atleta... Ah, ti dicono le opinioni sul Grande Fratello, tu l'hai fatto, quando l'hai fatto? Eh, l'anno scorso, eh, sono stato quasi chiuso sei mesi, che oggi sei mesi a chi li danno? Nessuno! No, sì, è una battuta! Ero una putata! E ieri sono usciti dei protagonisti importanti, no? Eh sì, ieri è uscita Soleil e Miriam. Perché devo andare dalla Barbara D'Urso, così han detto, eh! Così dicono! Così fa! Ma voglio dire, ma, cioè, Regina non me la tira dentro... Nel programma della Barbara, che salutiamo, che probabilmente sentiremo in settimana, ma tu faresti la pupa o il secchione? La cosa che ti piace? No, io farei l'opinionista! Mmm... O la pupa o il secchione! Cioè, sono due le opzioni! O pupa o il secchione! Vi dichiarate tra di voi! Strapatevi i capelli! La pupona! Quindi la pupa è dentro un secchione! Esatto, la pupona, un mix! Ora, festa della donna, Pierpa canta una canzone. Yes! Che chi passa da qui deve cantare, beh, c'è poco da fare. La canzone è Malafemmana, mi ha scelto le peggiori oggi. Prima la donna immobile che parlava male della donna, e poi Malafemmana. Ma noi siamo controcorrente, dai! Però alla fine Totò dice, sei l'unico amore, ma a vita mia sei stato tu. Sentiamo la versione di... Interviene anche lei? Intervente! A posto siamo! Oh, che miseria! Vabbè, la sentiamo! Malafemmana! Allì! Yeah! Vai! Narcos, com'è? Chi l'ha fatto a Sabato? Chi l'ha fatto a Sabato? Ma che... Con il buon tempio... Dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio. Prego! Se avessi fatto niente, quello che hai fatto a me... Spacca Napoli stamattina voglio... Stommo d'avessi accisa... Vani d'acca, vani d'acca... Già mi immagino alle comunioni... Salutiamo Mimino, la carissima di Mimino, gore nostro... E facciamo un applauso per sta comunione! Non c'ha una stavno... Onesta cummate... Si inserisce la pantera! Femmana... Che emozioni... L'hai già rovinata... Dopo tre secondi... Lo sciocche ho fatto chiagnere... La crema è intimità... Infamità... Infamità, infamità... Infamità, infamità... Femmana... Arrivate le bomboniere, le bomboniere... E buste... E' sufficiente, è sufficiente... Bellissima... Adesso arriva per meglio... Allora facciamo... L'amaro... Comunioni e cresime... Tutto, tutto... Non ci sono più le bombone... C'è la porta! Ci sono le buste... Comunque io sento odore di nuova coppia artistica... Perché Pierpa che... Giulia non canta... No, Giulia sul canto meglio di no... C'è questa... Con la regina... Potrebbe nascere una coppia... Sì... Un sodalizzo artistico... Voi come vi chiamate? Prelemi? Noi prelemi... Che ship potremmo essere? Voi potrebbe... Pregina... Pregina... O i reginelli però... Reginelli... Cosa? O i reggelli... Reggelli non mi piace... Ha qualcosa da suggerire... Aldo lei? Pretina... Ma... Anche pretina... Anche pretina... No ma pregina è bello... Pregina... Pregina... Vediamo facciamo una prova... Super classifica... Ci sono i pregina... Dai fate una roba... Dai... Tanto ormai... Va bene... Pierpa... Ti lascio la tua partner... Bene... È il suo momento... Lei fa... È arrivato il momento... Clu... Le pibili... Clu... Clu... Grazie... Adesso... Con l'Happy B-Day... Regina... Lo... 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 Anche a me all'inizio... Poi ti abitui... No io non mi abituo mai... Happy B-Day... A Tommaso per i suoi 60 anni splendidi... Ti ce l'ha detto... Ho scoperto tutta la vita... Orviero 63 da parte della figlia... Orviero? Orviero... Ginevra... È l'amore di un nostro carissimo ascoltatore che copre gli anni oggi... Mamma mia... Tomaso Farinelli... Novi primavere... Meravigliosi... Comunque quando non c'era Pierpaolo... Steppi B-Day... Non me lo facevi così... È vero... Lo fai... Siete così voi... Appena c'è... Ma come mai lo senti meglio? Non lo so... La sento più carica... Tomaso Farinelli... Ho già detto la cagnolina... Ben Nelope... Abuni bambini... Dai... Gianni e Pasquali sono dei gemelli... Quaranta primavera della sorella Rosi... E tutta la famiglia di Atamura... Cristina 46 da Varese... Flora 40 primavera da Sara e Emma... Nooo... Sara e Eva? Sara e Emma... Sara e Eva... Sara e Eva... Primavera sto lavorando... Non mi interrompete... Chi ha detto l'ultimo non si è capito... Flora 40 primavera da Sara e Eva... Quello di dieci... Quello di dieci... Elsa dieci primavera meravigliose... E poi Roberto se sente splendida luce di primavera... E per finire... Lucide a Varese... A Maddalena non li fa a Maddalena... Maddalena... E poi attenzione... Attenzione... Antonello... Banditi... Dimmi tu come ti stai sentendo... Ho la pelle d'olta... Ho la pelle d'olta... A questo effetto... Chiudiamo la puntata... Non abbiamo tantissimo tempo... È la festa della donna... Abbiamo toccato un po' di diverse sfere di questa giornata... L'abbiamo fatto in maniera allegra come facciamo... Ma si regala qualcosa? C'è questo accavallamento... Chi ha fatto a San Valentino... Tutti aspetti qualcosa... Morelli si presenta... No perché settimana prossima è il mio compleanno... Vorrei che si convergesse tutta la disponibilità economica... San Valentino... C'è troppo vicini... Sì... Però per me l'8 marzo è tutti i giorni... Quindi noi abbiamo questa scusa... E la fiolinata... E regala San Valentino... E regala la festa della donna... Ragazzi... Cioè... Bisogna dare... Un gesto bisognerebbe fare... Un gesto... L'uomo dovrebbe fare un gesto... Una carezza... Abbiamo parlato di far sentire un pochino dei birividi... Esatto... Vabbè dai... No voglio dire... Un gesto solidale sarebbe quello di fare... Una cosa che normalmente se ne occupa la donna... Farla tu in quel giorno... Vabbè che ormai tu ti senti a far tutto... Stirare ad esempio... Tu sai stirare? No... Ecco... Tu sai stirare? Io sì... Sì sì... Una cosa che potrei fare è un make-up... Un tutorial make-up... Tipo... Anche tu... Ah vi truccate voi... Esatto... L'eyeliner... A posto siamo qua... Io fermando... Cioè abbiamo proprio... Il gruppo... Il nuovo membro qua... Ha reso più assortito il programma... Allora noi ci vediamo venerdì... Venerdì da... Tutti venerdì... Tutti venerdì... Dal prossimo venerdì... Il nuovo membro... Sono super felice... Sì... Yeah... Out! Out! Elex & Trullo...